materiale per fare tanto. Carta Canta Buongiorno Mister Massimo Canta Lei ha sempre detto in queste settimane che non le piace fare esperimenti le chiedo a questo punto è Piontek il centravanti di questo Milan e come lo si recupera? Piontek è il centravanti di questo Milan con determinate caratteristiche, Leao può essere il centravanti di questo Milan con altre caratteristiche ho scelto Leao a Roma piuttosto che Piontek perché credevo che la profondità lasciateci dalla Roma in alcune occasioni fosse più adatta alle caratteristiche di Leao a volte non l'abbiamo servito bene noi, a volte non si è mosso con la giusta velocità e il giusto tempo lui credo che Chris sia un giocatore che sta bene, che abbia voglia di fare da Rafa mi aspettavo di più mi aspettavo di più domenica ogni partita posso posso fare delle scelte diverse le caratteristiche sono diverse possono giocare anche insieme ma credetemi io non credo che sia così importante chi giochi domani è importante cioè il singolo che giocherà domani è importante la squadra che gioca domani che deve sapere come interpretare la partita è importante il Milan che scenderà in campo con che testa deve scendere in campo con che approccio deve scendere in campo e quanto debba stare dentro la partita perché basta guardare i risultati anche del campionato per sapere che vincere le partite è difficile non è che quelle che stanno davanti quando hanno incontrato adesso non mi piace però degli altri ma non è che la Juve ha vinto a Lecce 6 a 0 o ieri sera qualcun altro ha vinto 6 a 1 vincono di misura vincono per degli episodi gli episodi possono determinare risultati noi dobbiamo stare dentro la partita per far sì che gli episodi arrivino dalla nostra parte poi dopo poi dopo cresceremo sul gioco sulla tecnica sull'organizzazione perché abbiamo le qualità per farla ma adesso è un momento dove bisogna stare lì soprattutto con la testa con l'anima e con il cuore e con il cuore